Con questo nuovo tutorial andiamo a vedere come inserire nel modello di presentazione la domanda per la gradatoria permanente A da 24 mesi i titoli di riserva. Allora andiamo dopo aver chiaramente inserito il modello B1 dobbiamo scendere ai titoli di riserva, andare alle azioni disponibili e fare inserisci. Ecco qua abbiamo una serie di titoli di riserva dai superstiti di vittime del dovere o invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche, l'invalido di guerra, l'invalido civile di guerra, l'invalido per servizio, l'invalido del lavoro o equiparati, l'orfano o profugo, ovvero va di guerra per servizio e per lavoro. E poi c'è quello più diffuso perché è per esempio l'invalido civile. Sull'invalido civile si clicca la lettera N, si mette l'ente per esempio l'Inps, la data dell'invalidità, per esempio si va a prendere il maggio 12 maggio 22, il numero dell'atto che sono 13 cifre numeriche e la percentuale ai sensi d'articolo 1 che deve essere superiore e due terzi, per esempio l'80%. E il numero dell'atto, ad esempio 122449007146. Ecco, e alla fine di tutto questo si può tranquillamente fare inserire che cosa che è riferito all'iscrizione al collocamento di essere iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui la legge 68 ha la data di scadenza del mando e si inseriscono gli estremi di iscrizione dell'ufficio di collocamento oppure di aver reso la dichiarazione relativa al collocamento obbligatorio in occasione della presentazione di precedenti istanze e dunque dire quando e nel caso oppure di non essere iscritto ecc. Dunque si fa inserisci, nel campo N la percentuale deve riportare un numero vario, certo non si doveva indicare il simbolo percentuale perché non lo riconosce, basta mettere il numero e dunque a questo punto il sistema riconosce perfettamente l'inserimento e si può fare inserisci e il sistema ha inserito la riserva. Speriamo che questo video tutorial sia utile per la compilazione del modello di presentazione della domanda gradatore permanente ATA 24 mesi. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.